Questa mattina come realtà organizzate contro la guerra delle spese militari abbiamo riaperto questa ex caserma vuota da almeno 7 anni da quanto ci dicono vicini e vogliamo ribadire il fatto che il 27 ci sarà un corteo di opposizione contro questa parata militare fascista che ci sarà allo stadio e poi al Duomo organizzata dalla Folgore e ribadiamo appunto il fatto che i soldi non devono essere spesi per organizzare queste parate militari o comunque finanziare la guerra ma appunto i soldi devono essere dati per le case, per le università, per le scuole e per i servizi.